Allora, direttamente dal nostro studio di Prati, siccome si è svelato l'arcano, ovvero Barbershop Tattoo, Ettore? Ma Barbershop Tattoo non rende, non rende, è difficile raccontarla Fin quando non vedranno, fin quando non vedranno Sì, fino al taglio del nastro, anche perché le cose sono tante, non c'è solo Barber e Tattoo Diciamo anche che cosa c'è? Diciamo Il merchandising del brasiliano? C'è una linea di abbigliamento che è strepitosa 25 punti? Sì, 5 punti, gli accessori Liliana, non te la squagliare che devi venire un attimo Vogliamo dire anche gli accessori No, gli accessori non li diciamo Però voglio presentare il responsabile amministrativo Che è il fratello, il fratello di Ettore, eccolo qua Fai un saluto Ciao a tutti Mamma, tutti belli poi li prendiamo Ecco lì Allora, Liliana, responsabile informatica Vieni, Lili, vieni Si vergognava Un saluto Cos'è bella, dai Allora, mi raccomando, seguiteci sempre Perché giorno dopo giorno Andiamo sempre avanti, no? Un merito, no? E poi vi svegliamo passetto, dopo passetto, sempre di più Mamma mia che bella Che bella gente a Prati Allora, mi raccomando, seguiteci sempre